Un tripudio di solidarietà rosa in piazza della Vittoria ieri per la nona edizione della Corsa Rosa. La corsa camminata di 6 km tra i suggestivi scorci di Brescia, al cui ricavato sarà devoluto al progetto nazionale WISP per la ricostruzione di impianti sportivi nelle zone terremotate. Quest'anno la Corsa Rosa ha battuto ogni record staccando il pettorale numero 9000. Oltre 100 le associazioni presenti che si sono iscritte alla corsa per contribuire alla diffusione del messaggio dello stop alla violenza sulle donne per approfittare di un momento di condivisione e allegria tutta il femminile. Presenti anche numerosi uomini rosa dentro, come sono stati definiti dal vice sindaco di Brescia Laura Castelletti e che hanno manifestato il proprio rispetto e vicinanza nei confronti della donna. Tra coloro che hanno partecipato alla Corsa Agonistica, Diana Alexova ha tagliato il traguardo per prima e ha concluso in 24 minuti e 40 secondi il percorso davanti a Claudia Sambrici e Anna Fantinelli. Sono anche stati premiati 5 gruppi più numerosi. Appuntamento dunque alla decima edizione della Corsa Rosa con l'auspicio di arrivare ad almeno 10.000 donne che contribuiranno a riempire di rose e solidarietà, oltre che di sport per tutti, il centro della nostra città.